Autostarti in movimento per i 15 della Super Tris È in ritardo Forbante Dei, per adesso deve inseguire l'autostart Allo stacco i più veloci sono Guantanamo-Kiu e Forza del Par Filtra molto bene dalla seconda fila Fulgor del Bar Continuano a darse le Guantanamo-Kiu e Forza del Par Dopo 250 metri di corsa Forza prova a prendere mezza lunghezza Guantanamo che ha deciso di mandare In terza posizione è partito molto bene Chiotos Che precede Frendi-Rock in quinta posizione Evergreen A I primi 400 con grande strappo i 27-8 Ha speso moltissimo a Forza del Par Precede Guantanamo-Kiu, Chiotos, Frendi-Rock Che viene di fuori dando la scia Evergreen A Fulgor del Bar di dentro Falco del Pino In quarta pariglia Eclisse-Domar I primi 600 in 43-9 Insiste Frendi-Rock che all'invoco della seconda curva Supravanza La battistata Forza del Par E della nuova leader Lascia così aria in faccia Evergreen A Che si trascina a Fulgor del Bar Ed Eclisse-Domar La seconda frazione in 31-2 59 metà gara Frendi-Rock adesso una di vantaggio Nei confronti di Evergreen A Che gli è arrivato a tiro Si trascina a Fulgor del Bar Fevergreen A va su Frendi-Rock A 6.50 dal palo Si arriva adesso al chilometro Viene passato in 1-13-8 29-8 al palo Si non raffronta l'età opposta Evergreen insiste Su Frendi-Rock Si avvicina a Fulgor Semba stanca Forza del Par Per adesso ancora quarta Ma si libera Chiotos Che la avvicina Evergreen mette sotto pressione Frendi-Rock La frazione in 29-1 1-28-1 E tre quarti di miglio Evergreen va su Frendi In terza posizione Fulgor Prova a venire via In mezzo alla pista Eclisse-Domar Che sopravanza Chiotos 2.50 dal palo Insiste Evergreen Su Frendi-Rock Si avvicina Eclisse-Domar Anche Fulgor Adesso dallo speed Retta d'arrivo Evergreen Su Frendi-Rock I due sono ancora a lottare Passa Evergreen A 150 dal palo Fulgor del Bar Eclisse-Domar A centropista Quindi Chiotos Evergreen A Ancora una di vantaggio Su Fulgor del Bar Evergreen A Su Fulgor del Bar Mantiene mezza di vantaggio In terza posizione Eclisse-Domar Al quarto Chiotos 29-7 Anche gli ultimi 4 1.57-8 Il tempo totale 1.13-6 La media L'ha vinta come Semida contro favorito Evergreen Aama In schema contrario A quello che si pensava Vincendo Aria in fondo